Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi in questo video volevo andarvi a far vedere un nuovo gadget, se così possiamo chiamarlo, che ho comprato della Marvel. Ovviamente avrete già letto dal titolo e il gadget in questione riguarda Hulk, più precisamente è un cuscino di Hulk. Ovviamente ho scritto nel titolo che ho comprato io questo cuscino, questo gadget, ma in realtà non l'ho comprato io, mi è stato regalato da mio padre. Quindi grazie a Franco perché, dico grazie a Franco perché tanto credo che tutti voi lo conosciate, è stato partecipe di alcune live che abbiamo fatto sul vecchio canale, quindi molti di voi lo conosceranno. E sicuramente avrete visto il buco qui dove c'era il guanto e ce l'ho qui perché magari alcuni di voi non hanno potuto vedere il video sull'altro canale dove vi mostravo il guanto dell'infinito e quindi vi farò prima vedere il guanto dell'infinito e poi questo nuovo prodotto. Allora questo è il guanto dell'infinito che come dicevo l'altra volta nello scorso canale è quello da 13 euro, questo l'ho pagato 13 euro su Amazon, non è ovviamente quello originale tra virgolette, anche se questo è lo stesso originale. Però devo dire che non è fatto male per essere così poco caro perché effettivamente 13 euro per un articolo così non sono molti. Vedete i dettagli sono fatti molto molto bene tranne che magari mi facevano notare alcune persone che le gemme e un po' il colore delle gemme potrebbe un po' stonare con la situazione. Però a parte questo devo dire che è un prodotto veramente buono vedete quindi ve lo consiglio di comprarvelo se volete perché se non volete spendere ovviamente tanti soldi per comprare quello da 120 euro questo è molto buono a parte la piccola cosa delle gemme. Ora però levando il guanto che molti di voi l'avranno già visto vi voglio far vedere questo cuscino che mi ha comprato mio padre e devo dire che a me sinceramente piace. Ora ve lo faccio vedere è così di Hulk veramente molto carino e anche abbastanza grande forse sembra un po' più piccolo nel video ma è anche abbastanza grande. Vedete molto molto carino con i capelli che mi fanno troppo ridere in questo modo dietro è fatto così quindi normale e vedete anche che qui c'è diciamo che è della Marvel ecco è ufficiale della Marvel c'è anche il cartellino Avengers. E una cosa che potrete vedere qui che c'è scritto se riesco a farvelo vedere con luce led perché questi occhi che vedete qui di Hulk su questo pulsantino dove c'è scritto provami se noi schiacciamo questo pulsante potete ben vedere che gli occhi si illuminano. Ora ovviamente siamo alla luce del giorno quindi si vedrà un po' di meno ma se io provo a spengere la luce si dovrebbe vedere un po' meglio ora ve lo faccio vedere vado a spengere secondo la luce vedete già così ora spengo anche quest'altra vedete già così è veramente molto molto più carino. E questo era per farvi vedere ora accendo la luce questa cosa in più che ha questo cuscino e se ripremiamo la luce se ne va e si spenge. Quindi devo dire che è stato veramente molto carino ora cercherò di metterlo magari qua dietro però sarà un po' dura perché non so effettivamente dove metterlo perché è tutto pieno però devo dire che anche il materiale è molto carino e ovviamente non lo userò come cuscino ma come soprammobile una cosa del genere. Ora non so se riuscirò a metterlo qua dietro magari lo metterò qua davanti ovviamente se io lo mettessi qua davanti voi non lo vedrete nei video però ora ci penserò vedete infatti anche qui alla targhetta Avengers quindi tutto originale come potete vedere lo faccio vedere in ultima volta. Quindi voi nei commenti fatemi sapere se questo cuscino vi piace non posso dirvi dove è stato comprato perché non glielo ho chiesto se magari siete interessati potrei anche chiedergli non lo so ma probabilmente nemmeno non so dove l'abbia potuto prendere perché lui viaggia molto spesso quindi non lo so non glielo ho chiesto comunque sia voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate io vi ringrazio ci vediamo presto con un nuovo video ciao Grazie